...con la storia della stessa vita, presenti anche nelle partite di calcio, sono a porto campo sotto il sole o la pioggia, sempre pronti a tutela della salute e per intervenire in caso di infortunio. Un sacrificio impagabile, un patrimonio prezioso, il mondo del calcio ringrazia con tutto il cuore il 2018. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.